Buongiorno a tutti, la Cadeog di oggi ci porta indietro di 83 anni, al 7 luglio 1941 e all'occupazione americana dell'Islanda che portò al primo impegno militare degli Stati Uniti nel secondo conflitto mondiale, ben cinque mesi prima del loro ingresso in guerra e quando il presidente americano Roosevelt sosteneva che i figli d'America non sarebbero stati mandati in Europa a combattere. L'isola era già stata occupata dagli inglesi nel maggio del 40 dopo che l'esercito tedesco aveva invaso Danimarca e Norvegia. Churchill in questo modo intendeva evitare che la Germania entrasse in possesso dell'isola islandese, conquista territoriale che avrebbe facilitato ulteriormente gli approvvigionamenti per i soldati di Hitler attraverso il mare del nord. L'occupazione americana cambiò per sempre la storia dell'Islanda, paese troppo lontano per pesare politicamente e i 50.000 soldati statunitensi costituivano più di un terzo della popolazione complessiva che allora era di 120.000 abitanti. Dopo la guerra l'Islanda entrò a far parte della Nato e gli Stati Uniti mantennero una presenza militare fino al 2006 quando se ne andarono formalmente sebbene l'Islanda abbia tuttora delle basi Nato.